Ci siamo ragazzi, ultimo video di FIFA 21, come vedete Qatar 2022, siamo qua con il mondiale, mi raccomando per l'ultimo video di FIFA 21 arriviamo a 2000 mi piace per il mondiale, come vedete dalla maglia che sto indossando, lo faremo con l'Italia, l'avrete visto anche dal titolo, dalla copertina. E se volete una maglia come questa della nazionale, come questa che vedete dietro e tutte queste altre qua, vi lascio il link in descrizione di UFO Calcio, un sito dove potete acquistare maglie a prezzi veramente, veramente bassissimi, fatte veramente, veramente da Dio, codice sconto IAS per il 15% di sconto e vi ricordo che ci sono anche delle promozioni per avere maglie gratuite dai 79 euro in su, la spedizione è gratis. Ora andiamo con questo video, andiamoci a prendere il mondiale con l'Italia. E sono veramente carico per iniziare questo video, iniziare il mondiale Qatar 2022, c'è subito Ronaldo il fenomeno e devo dire che sinceramente se penso al mondiale il primo giocatore che mi viene in mente è proprio lui. Ditemi voi chi è il giocatore che vi viene in mente, a me vengono in mente lui, viene in mente per esempio un Fabio Grosso magari per il nostro mondiale del 2006, ma comunque lui veramente è uno dei giocatori più iconici. In teoria se vado così e vado indietro c'è Zidane del 2006 che ci fa godere, c'è sempre Ronaldo, però in teoria se vado avanti e indietro ecco compare pure Maradona che è anche lui comunque icona assoluta non solo del calcio ma anche dei mondiali, c'è Iniesta del 2010, ci sono un po' di giocatori che a volte compaiono. E direi di iniziare questo mondiale, purtroppo è in inglese perché purtroppo questa mod funziona bene solo in inglese, ho provato ad aprire in italiano ma è un po' buggata e andiamo a sceglierci assolutamente il mondiale. Eccolo qua ci siamo, devo dire che il menu, questa modalità è veramente fighissima, questa mod è veramente al bacio e direi come squadra assolutamente di andare a selezionare la nostra Italia, ci sono un bel po' di nazionali però assolutamente andiamo a scegliere la nostra Italia, l'andremo a scegliere. E siamo dentro al nostro mondiale, partiremo dalla fase a gironi, non abbiamo selezionato la squadra, le convocazioni né niente, sarebbe stato figo poterle scegliere però comunque c'è anche quel 2020, 18 giugno che un po' mi fa storcere il naso però comunque è figo tutto quanto. E nel nostro girone abbiamo la Turchia nuovamente dopo l'europeo, abbiamo la Nigeria e abbiamo il Canada, gruppo B invece Francia, Polonia, Algeria, Stati Uniti, gruppo C Germania, Galles, Egitto, Messico, Inghilterra, Svezia, Argentina e Cina per gruppo D, gruppo E Spagna, Repubblica Ceca, Brasile e Australia, Danimarca, Belgio, Uruguay, Corea del Sud, Portogallo, Svizzera, Colombia, Giappone e poi Olanda, Croazia, Gile e Senegal. Devo dire che vedendo gli altri gruppi il nostro forse è uno dei più abbordabili anche se ci sono un po' delle incognite quindi prima partita l'avremo contro la Nigeria andrei però a vedere la nostra formazione chiaramente che ha comunque gli overall di questo FIFA chiaramente molti secondo me dovrebbero essere un po' più forti magari vado a fare la formazione veloce ve la faccio vedere al volo e poi andiamo a fare la prima partita. Formazione fatta devo dire che purtroppo non ci sono tanti giocatori peccato non poter fare le convocazioni perché sicuramente avrei portato qualche giocatore in più qualche giocatore diverso però comunque la nazionale titolare alla fine è questa con Donnarumma in porta. Florenzi l'ho messo al posto di Lorenzo anche se poi comunque il titolare è stato di Lorenzo per praticamente tutti gli europei. Bonucci, Chiellini, Spinazzola, poi centrocampo Giorginio, Veratti, Barella scomma è veramente molto forte. Chiesa, Insigne e in attacco immobile scomma è veramente buona abbiamo in panchina comunque degli ottimi giocatori. Nelle riserve c'è a parte Romagnoli abbiamo un po' dei giocatori tipo anche magari D'Ambrosi o Biraghi che non avrei mai convocato per dire Cristante c'era gli europei ma anche lui insomma siamo lì abbiamo Bernardeschi però insomma io direi che le partite del girone le andiamo a simulare. Loro hanno dei bei giocatori comunque hanno una bella formazione però comunque dovrebbe essere una partita abbastanza abbastanza semplice. Andiamo a fare quick sim simulazione veloce vediamo che facciamo 2 a 1 Chiellini e Barella loro erano passati in vantaggio vinciamo la prima partita del girone. Siamo quindi a punteggio pieno andiamo con la seconda contro il Canada che ha 0 punti praticamente teniamo la stessa per questa partita poi magari per la terza facciamo del turnover vediamo che facciamo 3 a 0 immobile Florenzi e Insigne tanta tanta roba 6 punti punteggio pieno. E ora avremo la partita con la Turchia che anche lei ha punteggio pieno quindi partita per prenderci il primo posto abbiamo fatto però tutto praticamente turnover tranne Chiesa che rimane dentro semplicemente perché non avevamo più cambi. Andiamo a fare simulazione rapida vediamo cosa facciamo 1 a 1 con le nostre riserve non so quanto siamo finiti nel girone però penso primi per forse la differenza reti però non so i risultati della Turchia. E attenzione perché agli ottavi siamo contro la Francia partiamo fortissimo vediamo gli altri ottavi allora Germania Inghilterra poi Brasile Danimarca Colombia Olanda Turchia con la Polonia. Quindi non vorrei che la Turchia sia passata come prima e quindi si sia beccata una seconda di un altro girone la Polonia comunque Messico Argentina Spagna Belgio e Portogallo Croazia. Nel girone siamo passati come primi e ci siamo beccati la Francia vabbè è andata così ora affronteremo la Francia sarà una partita veramente veramente tostissima la giocheremo ovviamente con i titolari. E' giunto il momento di affrontare la Francia agli ottavi di finale di questi mondiali vediamo la loro formazione è molto molto forte con Tolisso dietro a Mbappé Benzema Camavinga titolare con Kanté Pogba e poi la difesa direi che quella titolare con Mendy sulla sinistra noi sempre con quella titolarissima direi di simulare la partita normalmente se ci sarà bisogno entriamo a gara in corso. Speriamo che i nostri ragazzi riescano a vincerla da solo da soli in caso insomma entriamo in campo la partita sta per finire ancora 0-0 stiamo giocando meglio loro non hanno avuto grosse chance finora stiamo a vedere che cosa fanno in questo momento attenzione parata di Gigio e direi che dopo questo calcio d'angolo entriamo in campo e vediamo di chiudere la partita manca poco alla fine manca veramente pochissimo e vediamo se riusciamo a chiuderlo troppo paura di subire un gol alla fine. Manca pochissimo Benzema attenzione a Kylian Mbappé dentro non riesce a passare Pogba lo ferma il suo ex compagno di squadra riparte Spinazzola niente l'arbitro fischia era passato il 91esimo saranno tempi supplementari. Ripartiamo con Verratti c'è Ciro Immobile è sempre marcato può allargare però per Federico Chiesa c'ha spazio davanti a sé attenzione che c'è dentro qualcuno era Verratti anticipato però da Varane che è un mostro. Rimessa laterale da zona offensiva per noi può essere una delle occasioni buone per questa partita va in signe prova a spingere non lo riesce a fermare l'avversario ma si deve proporre qualcuno. Giorgini attenzione il tocco è per Verratti subito su Barella non riesce a passare però su Varane e ho paura che saranno calci di rigore forse c'è un'ultima occasione per la Francia l'arbitro però dovrebbe fischiare se fosse Clemente nei nostri confronti. C'è Camavinga fischia l'arbitro finisce anche questo secondo tempo supplementare saranno calci di rigore calci di rigore per gli ottavi di finale Giorginio direi di non metterlo per ultimo. Primo rigore immobile contro Giorginio direi di metterlo a sinistra Ciro immobile 1 a 0 Griezmann contro Gigio secondo me lo mette a sinistra invece la mette benissimo sotto l'incrocio a destra spiazzato Donnarumma. Barella contro Giorginio lo mettiamo sulla destra spiazzato Giorginio 2 a 1 e ora sarà il turno di Pogba con i suoi soliti passettini noi non ci facciamo comunque diciamo ipnotizzare lo para Donnarumma ipnotizza Pogba siamo in vantaggio ora è il turno di Giorginio che non deve sbagliare. La mettiamo sulla destra no lo sbaglia anche qua lo sbaglia parata di Giorginio Benieder contro Gigio secondo me lo mette centrale invece no spiazzato siamo 2 a 2 pari quarto rigore Florenzi contro Giorginio Florenzi sulla sinistra spiazzato Giorginio Tolisso contro Giorginio Tolisso secondo me la mette sulla destra traversa 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 come Treseguet ora Insigne contro Giorginio rigore che può portarci alla vittoria di questi ottavi di finale. Siamo ai quarti di finale Francia battuta a casa Francia vogliamo ai quarti di finale e fatemelo dire godo agli ottavi abbiamo battuto la Francia e ora ai quarti avremo la Germania in realtà poi tutte le altre squadre sono forti a parte la Polonia Brasile Olanda Polonia Argentina e Spagna Portogallo Germania ai quarti di finale veramente veramente tosta. Ora avremo una Germania con un 3 4 3 una squadra veramente molto molto forte messa però male perché c'hanno Sané in mezzo al campo vabbè andiamo a fare simulazione per questa partita come con la Francia lo sappiamo già in caso entriamo in campo e risolviamo la partita. Si è chiuso al primo tempo 1 a 1 Vernere Chieser è andato a fare l'app e mi sono trovato l'1 a 1 comunque buono l'1 a 1 in questo momento stiamo giocando bene abbiamo sempre il possesso noi attenzione immobile 2 a 1 sembrava un pallonetto bravissimo grande grande Barella anche lui in gol 3 a 1 e direi che la partita è praticamente chiusa direi che possiamo. No non entrare in campo non volevo entrare in campo volevo andare al risultato 3 a 2 al novantesimo Brandt ma non basta andiamo in semifinale battuta la Germania senza bisogno di scendere in campo e vediamo adesso contro chi saremo non lo sappiamo ancora il Brasile ha vinto ai rigori contro l'Olanda e adesso vedremo contro chi siamo in semifinale siamo contro il Brasile quasi fa dura. Vediamo dall'altra parte chi c'è Argentina Portogallo quindi sono uscite Polonia e Spagna Argentina Portogallo e Italia Brasile 2 sudamericane le 2 più forti e 2 europee che tra l'altro sono anche le ultime 2 che hanno vinto l'europeo noi e il Portogallo. Andiamo a giocare contro il Brasile squadra molto forte c'è Arthur sulla sinistra Paoligno che non so chi quale sia penso quello il centrocampista sulla destra andiamoci a giocare questa partita con i soliti andiamo ovviamente a simulare la partita e speriamo di arrivare in finale contro una tra Argentina e Portogallo. Manca meno di un quarto d'ora alla fine della partita ora siamo in possesso vediamo cosa fa Ciro Immobile aspetto questa azione c'è Chiesa attenzione Barella ancora Chiesa ma loro ci stanno chiudendo bene aspetto questa azione dicevo e poi entro in campo per cercare di risolvere la partita sperando che non siano ancora tempi supplementari non riusciamo a tirare incredibile. Palla ancora per Ciro attenzione che c'è Insigne non riusciamo a tirare veramente incredibile però il tempo sta scorrendo attenzione Insigne niente e direi di entrare in questo momento su questo calcio d'angolo dovrebbe essere calcio d'angolo e vediamo di portarci questa finale in saccoccia dai Insigne dalla bandierina la mette dentro c'è Ciro Immobile non ci arriva di testa c'è Insigne che forse cosa ha fatto palla per loro incredibile. Arriva il fischio dell'arbitro finisce questa partita in realtà i tempi regolamentari anche questa volta tempi supplementari Bobby Firmino con un po' di finte poi c'è Fabinho su Allan che ora in posizione un po' avanzata sbaglia il tocco per Arthur usciamo molto bene dal loro attacco quindi possiamo ripartire con Barella che c'ha fiato può spingere c'è anche Federico Chiesa che è un altrettanto veloce Chiesa aspetta qualcuno c'è sempre Barella che spinge sul fondo Barella può entrare dentro attenzione mette il pallone dentro e sarà calcio d'angolo poteva fare qualcosina di meglio manca veramente poco l'arbitro fischia finisce anche questo secondo tempo e saranno nuovamente calci di rigori e partiremo sempre noi Insigne contro Allison proviamo sempre il primo rigore sulla sinistra abbiamo avuto un clamoroso ora Fabinho contro Gigio anche loro centrale 1 a 1 Ciro Immobile sempre contro Allison questa volta sulla sinistra e questa volta Allison ci arriva Teyes contro Gigio deve pararlo Gigio! Michela dove l'ha tolta dall'angolino 1 a 1 ha fatto una parata clamorosa Giorginio contro Allison la mettiamo di qua perfetta da parte di Giorginio che questa volta non sbaglia Rafinha contro Gigio Gigio ancora la toglie da sotto la traversa non molto angolato ora Florenzi contro Allison la mettiamo sulla sinistra qua l'ha capita bene mannaggia due rigori sbagliati anche per noi ora il loro quarto rigore Firmino l'ha sbagliato l'ha sbagliato ultimo rigore Barella contro Allison la mettiamo di qua Barella e siamo in finale dei mondiali alla finale dei mondiali dopo nel 2022 saranno stati fatemi fare un quick match 20 quasi 20 16 anni quanti cavolo sono 16 anni credo 2006 2006 sono 16 anni sì 16 anni siamo in finale siamo contro l'argentina di Leo Messi che batte il Portogallo di CR7 vediamo quanto è finita la loro partita è finita 1 a 0 per il terzo posto vince il Portogallo quindi Ronaldo batte Neymar andiamoci a giocare questa partita forza forza Italia prendiamoci questi mondiali ed eccoci qua lo stadion olympic di Qatar facciamo finta che siamo in Qatar per Italia Argentina finale del mondiale di Qatar 2022 con il pallone della Champions League un colpo all'occhio da vedere però siamo contro l'argentina di Leo Messi hanno battuto il Messico la Polonia e il Portogallo mentre noi abbiamo avuto un cammino più complicato con Francia Germania e Brasile e ora affronteremo l'argentina se vinceremo anche contro l'argentina saremo campioni del mondo forza forza Italia dai e dai e andiamoci a prendere questa finale prendiamoci i mondiali avanza Verratti con il pallone può allargare subito per Chiesa vediamo se si fa vedere qualcuno c'è ancora Verratti il tocco in qualche modo per Ciro Immobile attenzione arriva Insigne può provare il tiro a giro la parata di Andrada li nega la gioia del primo gol della partita con il tiro a giro e l'argentina si salva e non solo perché prova ad attaccare con lo Celso che prova ad arrivare a Messi ma lo fermiamo molto bene quindi ripartiamo con Giorginio verso Chiesa attenzione che c'è un corridoio per Ciro Immobile che riesce a passare in qualche modo Ciro Immobile contro Andrada Ciro no la parata di Andrada sul primo palo doveva incrociarla calcio d'angolo Lorenzo Insigne dalla bandierina Bonucci colpo di testa salva e spazza l'argentina e attacca Messi per l'argentina va via in velocità su Chiellini che però deve essere colui che lo deve marcare a uomo se non riesce a tenere lui non lo terrà nessuno in questa partita bravo Gigi ad uscire abbiamo rischiato e Messi diventa veramente infermabile possiamo ripartire però Ciro Immobile in difesa non sono irresistibili l'abbiamo capito subito in questi primi minuti arriva Insigne un po' in ritardo Chiellini ha recuperato a metà campo Federico Chiesa verso Barella ancora su Federico Chiesa attenzione in mezzo Ciro Immobile stacco perfetto Ciro Immobile trova il gol più importante della sua carriera nazionale secondo me di tutta la sua carriera il gol dell'1 a 0 nella finale dei mondiali il sogno per qualsiasi persona per qualsiasi bambino che sogni ma anche qualsiasi giocatore qua bello stacco di Ciro Immobile che ha fatto secondo me un movimento e un colpo di testa veramente da giocatore top ora l'Argentina deve rialzarsi c'è Aghero con il pallone va via in velocità Florenzi non riesce a chiuderlo ancora l'Argentina tocco dentro paratona di Donna Roma non facciamolo girare non facciamolo girare Donna Roma in calcio ad angolo ho rischiato qua ho difeso male tacca ancora l'Argentina con di balla appena entrato arriva il gol dell'1 a 1 ho difeso malissimo qua un'altra volta arriva il gol all'ora di gioco segna la gioia parede sfermato da Chiellini dai ripartiamo con Verratti ora dobbiamo trovare il secondo gol assolutamente questa è l'occasione giusta per trovarlo Barella 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 si deve far vedere Ciro Immobile lo serve Barella molto bene Ciro Immobile non può sbagliare Ciro Immobile 2 a 1 per Ciruzzo che trova il gol del vantaggio nuovo vantaggio per la nostra Italia doppietta in finale dei mondiali e quarto gol per lui in questo campionato del mondo come direbbero quelli della Rai gol bellissimo andrà da ancora battuto dobbiamo continuare ad attaccare Ciro Immobile ancora per Barella attenzione che possiamo trovare subito il terzo ancora Ciro Immobile tripletta per lui al 73esimo non posso urlare perché è mezzanotte e mezza ma vorrei veramente urlare se fosse la finale dei mondiali starei sbraitando una tripletta di Immobile contro l'Argentina tripletta 5 gol in questi mondiali e quindi anche capocannoniere c'è Leo Messi Leo Messi no no brutta scivolata non facciamo andare sul mancino paura del mancino di Leo Messi ancora Donnarumma mamma mia che sta facendo Gigio in questa partita Verratti ancora lui Verratti lungo per Ciro Immobile brutta sponda passaggio per il Papu Gomez ora la partita si fa coincitata attenzione alla coia brutto fallo steso giù e poi arriva il gol del 3 a 2 era nell'area va a prendere il pallone invece no il Papu Gomez lo va a prendere 3 a 2 portiamo il pallone il più lontano possibile da nostra area e qua perdiamo il pallone ma siamo già al 92esimo passato ora l'arbitro dovrebbe fischiare arriva il fischio dell'arbitro siamo campioni del mondo l'Italia vince il mondiale 2022 lo dico qua spero di non gufare ma se per caso nel 2022 nei mondiali di Qatar l'Italia dovesse vincere il mondiale vi voglio tutti sotto questo video a commentare Yas lo aveva predetto lo avevi predetto io comunque sono contento di averlo vinto qua su FIFA spero che questo video conclusivo di FIFA 21 vi sia piaciuto secondo me era un'idea abbastanza carina per farvi vedere una bella mod che ho notato e per chiudere con questo FIFA 21 in bellezza io vi ricordo che dal 22 settembre partiranno i video di FIFA 22 nuova carriera di FIFA 22 ora Giorgione Chiellini che c'ha la 16 non so per quale motivo è pronto per alzare al cielo questo trofeo questa Coppa del Mondo la prende larga però va bene campioni del mondo campioni del mondo e niente ragazzuoli un bacione forza Italia e ci vediamo con un nuovo video prossimamente ciao a tutti ragazzuoli ciao a tutti